Questo è un tornio, servono due anni di esperienza per saper usarlo bene. Durante il workshop estivo spiegheranno le basi e si faranno alcuni pezzi per i mumbali. È formato principalmente da tre o quattro leve che servono a muovere lateralmente questo pezzo e quell'altro cilindro girerà e verrà inserito lì un pezzo di metallo che verrà successivamente intagliato con la forma desiderata. Grazie.